cari amici di youtube ben ritornati sul mio canale oggi nuovo video sono qui nel mio giardino nella zona relato dove ho la piccola piscina idromassaggio e devo rifinire queste siepi di corbezzolo poi qua delle agnus però quella che mi interessa di più è questo corbezzolo visto che siamo in momento di potatura e comunque le piante sempre verdi le siepe sempre verdi possiamo portarle tranquillamente volevo affrontarla con il tagliasiepi telescopico ppx 1000 diego power associato all'elephant trunk di gtm professional questo supporto che ci facilita l'utilizzo di tagliasiepi sia telescopici che italiani e p classici ma non solo anche altri attrezzi più pesanti un'imbragatura che ci mettiamo comodamente la fissiamo bene è un'imbragatura ergonomica che ci riduce notevolmente il peso ma soprattutto distribuisce il peso sulle nostre gambe sul nostro bacino e non sulle braccia quindi noi facciamo molto meno fatica inoltre riduce appunto il peso dell'attrezzo quindi molto comoda vedete che ha una carrucola con questa vite che ci permette di regolare poi l'altezza che vogliamo e lavorare con facilità qui ho il tagliasiepi ppx 1000 diego power batteria telescopico ci permette di raggiungere anche delle altezze importanti senza l'utilizzo di scale tra battelli adesso lo andiamo a provare questa siepe non è difficile anche perché sono su un piano sollevato il problema che comunque non ci arrivo non sono michael jordan il mio metro e 65 basta e avanza per me sardo e niente vado a rifinirla poi l'altra parte stessa cosa essendo un terreno in pendenza soprattutto questa parte mettermi una scala e regolarla è un macello perché poi rischio essendo terra battuta rischio anche di scivolare quindi faccio tutto questo comodamente con questi attrezzi qua vedete facciamo così moschettone e via e adesso si lavora possiamo anche regolarci eventualmente l'inclinazione del tagliasiepi vedete io non sto facendo fatica quando faccio tutto comodica il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Fantastico, non ho voglia di andare dall'altra parte, mi allungo la prolunga, mi regolo il tagliasiepi e via. Grazie per la visione! Grazie a tutti! Possiamo eventualmente regolarci anche il tagliasiepi in questo modo, lavorare in pittale. Perfetto! Perfetto! Elephant Trunk con PX1000, Diego Power. È come se non avessi utilizzato nessun tagliasiepi, perché comunque al di là del suo peso che comunque ci permette di lavorare anche senza, vi posso garantire che durante la giornata, se lo iniziamo a utilizzare 2-3 ore, qualsiasi tagliasiepi pesa. Con questo sistema qua, state tranquilli che lavorate ore senza far fatica. Era giusto un video di approfondimento perché vi avevo promesso l'utilizzo di Elephant Trunk col telescopico, quindi sapete che mantengo le promesse. E niente, vi metto qua il video completo di Elephant Trunk, così vedete anche tutta la descrizione in dettaglio. E niente, vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube, attivate la campanella per le notifiche, rimanere sempre aggiornati. E vi aspetto con un prossimo video, poi se volete seguitemi anche su Facebook e Instagram Greenhouse Italia. Ciao!